Venite a trovarci nel nostro showroom, Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Comincia a entrare davvero nel vivo la preparazione della Cavese alla partita di domenica a Potenza. I bianco-blu, secondi in classifica nel girone H della Serie D, proveranno a dare lo sgambetto ai Lucani, che a loro volta si trovano in testa e potranno contare sulla spinta del proprio pubblico allo Stadio Viviani. Oggi primo allenamento settimanale e prima seduta del 2018 per i Metelliani, che agli ordini di Mister Bitetto si preparano con la consapevolezza di essere un'ottima squadra e di possedere l'esperienza necessaria per affrontare un impegno difficile come quello di Potenza. Si prepara ovviamente anche la tifoseria di Cava a vivere quello che assomiglia a un vero e proprio spareggio con i Potentini, i quali dal canto loro hanno due punti di vantaggio e anche la possibilità di restare in testa da soli con un pari, risultato dell'altamura con il Gragnano permettendo. 500 biglietti a disposizione dei tifosi aquilotti, ma la passione e l'amore verso la squadra bianco-blu porterà questi tifosi a polverizzare tutti i biglietti a disposizione, in vista di una partita che si preannuncia emozionante. Ci saranno il minuto di raccoglimento e il lutto al braccio per ricordare Pietro Santin? La Cavese e il Potenza hanno avuto contatti di recente e probabilmente verrà inoltrata alla Lega anche la richiesta congiunta tra le parti. Al 3D, il nuovo allenatore del Pomigliano è Raimondo Catalano, che sostituisce l'esonerato Marco Nappi. Il tecnico pugliese, ex giocatore del Rutigliano, debutterà domenica a volla contro il Gravina.